Ciao a tutti e bentornati su Magistro Flotus. Oggi parliamo un po' di Centurion. Come sempre facciamo una breve analisi del meta e come li consuetudine più o meno ogni mese. In particolare ci soffermiamo su quello che è stato forse uno dei tornei più grandi, se non il torneo più grande di Centurion di questi anni. Quindi 132 giocatori al Legion War a 100 e si è prestato uno degli eventi più grossi di Centurion. Si conferma anche questa volta un grosso evento, 130 giocatori sono tanti e c'era un main event di livello 2.5 quindi che permetteva la qualifica direttamente al livello 3 al nazionale e poi un side event pomeridiano se non ricordo male di più o meno una trentina di giocatori livello 1. Io purtroppo non sono potuto andare, non ho potuto partecipare a questo torneo e spero di riuscire in una delle prossime edizioni a partecipare anch'io perché a detta di molti è stato un torneo veramente gradevole, ben organizzato e insomma un bel torneo. Allora, prima di iniziare come sempre il nostro nuovo sponsor che ormai non è più tanto nuovo trovate il banner qua in alto, Fantasia Store, negozio sul quale, sito sul quale potete trovare un sacco di prodotti di ogni genere e con il nostro codice sconto Lotus 5 tutto maiuscolo avete il 5% di sconto su tutti i prodotti non già in offerta, non già scontati. Quindi dateci un'occhiata. Allora, partiamo magari dal meta, poi guardiamo la top, la top 16 che è comunque un dato rilevante su un torneo così grosso e poi ci soffermiamo magari solamente sul lato potto per quanto riguarda la lista altrimenti viene un video infinito. Allora, partiamo dal meta brevemente e poi andiamo in là. Allora, meta molto molto vario se non per qualche caso isolato. Allora abbiamo il mazzo più giocato in assoluto che è stato Diada con un 15x che su 130 in realtà è tanto però comunque è un dato accettabilissimo. 15 mazzi su 132 vuol dire comunque che il meta a livello di varietà è molto molto vario. Rafin 10x, poi abbiamo Tasi Gur 9x, Elminster 6, Geist 6, Oloro 6, poi ci sono 5 Trax, 3 Ogak, 3 Minatu, 3 Gerson, due Sai, due Rabo, due Asmo, due Esika, due Krenko, due Sitis, due Yagmot, Yoshimaru Tana e poi l'uno perdi praticamente tutti gli altri mazzi possibili e immaginabili che non sto qua ad elencare perché sennò non finiamo mai più. Quindi un meta molto molto vario con una dominanza di Diada, cioè dominanza di Diada nel senso come mazzo più giocato di Diada. Dato che ci aspettavamo, sapevamo che Diada e Rafin sarebbero stati due mazzi più giocati, non mi aspettavo così tanti Tasi Gur, però a quanto pare è un mazzo che sta piacendo, ci può stare, molto forte, però Diada e Rafin si confermano i Taier 1 e i mazzi da battere in questo momento in Centurion. Si confermano anche in top, infatti vediamo, se guardiamo la top 16, partiamo dal fondo, vediamo Allora questa non è la classifica finale perché poi dovrebbe essere solamente la Svizzera, sì perché qua infatti riportano i pairings che ci sono stati poi alla fine, a quanto pare hanno giocato la prima parte della top 8 e poi le semifinali sono state giocate mentre la finale no, quindi probabilmente hanno splittato in finale. Quindi vediamo che in realtà poi nelle semifinali abbiamo Oloro, Diada, Rafin e Ogak, quindi non sono questi i primi quattro mazzi. Però comunque se noi andiamo a vedere i dati, vediamo ben quattro Rafin in top 16, di cui tre in top 8, che sono tanti, e tre Diada in top 16, di cui due in top 8. Poi c'è un Rona, un Ogak, due Oloro anzi, un Voar, Tevesh, Omnat, Yoshimaru e Zurgo Jutai, quindi uno pair degli altri. Allora, brevemente su questi mazzi poi magari andiamo a vedere le liste della top 8. Allora che cosa significa quattro mazzi in top 16 e tre mazzi in top 8 per Rafin, per esempio? Allora, per Rafin vuol dire che se facciamo un calcolo brutto, sono più o meno 10 mazzi su 132, vuol dire circa il 7,5% del meta. 7,5% del meta e di questo 7,5% del meta, di questi 10 mazzi, quattro in top 16 e tre in top 8 sono tanti. È una conversione abbastanza alta. Diada un po' meno, perché comunque erano 15 per, quindi parliamo del 10%, un po' più del 10%, 11% del meta circa. Tre in top 16 e due in top 8, quindi una conversione un po' più bassa, che però per entrambi conferma la solidità di questi mazzi. È vero che erano i mazzi più giocati, però è anche vero che tre su dieci, ripeto, in top 8, o se preferite 4 su 16, sono tanti. Più che altro per Rafin. Tre su dieci vuol dire più di un terzo della top 8, quindi comunque veramente una buona fetta della top è veramente tanto. Ad esempio Tazigur, 9 per, nessuno in top 16, quindi un risultato pessimo per Tazigur in questo torneo. Poi è vero che bisogna comunque tenere sempre in conto dei giocatori, bisogna comunque tenere in conto del meta attuale, dei possibili matchup, della giornata, quanto era sorta. Cioè può essere anche un caso che non c'è nessun Tazigur in top. Però comunque se è uno dei mazzi più giocati non se ne presenta neanche uno in top 16, mentre gli altri due, per esempio Rafin, che è il secondo più giocato, se ne presentano 4 in top 16, vuol dire che la conversione, la percentuale di conversione in top è veramente molto molto alta. Faccio una premessa, non sto parlando di banlist, non sto dicendo che siano mazzi da bannare, sto solo facendo un'analisi matematica di quello che è stato il meta e di quello che è la conversione in top. Qui e qui mi fermo, non sto dicendo nient'altro per ora. Di ADA un po' meno, ma comunque un'ottima conversione. Allora, vediamo i mazzi in top 8 e poi torniamo al massimo un attimino su questo argomento qua, che secondo me è poi il dato più importante che ci ha dato questo torneo. Allora, guardiamo solo le liste del lato potto molto velocemente. Partiamo da Joel Italia Buo, che ha fatto top con Oloro. Andiamo in su di Diade e Rafin. Chiedo scusa a tutti i giocatori, ma guarderò solamente una lista di Diade e una lista di Rafin, perché ha poco senso per il contenuto proprio, fare, ripetere questa lista. Comunque sia, qua trovate, sul gruppo trovate tutte le liste, potete guardarle una a una. Se per esempio voi giocate a Rafin, guardatevele tutte. Allora, partiamo da Oloro. Oloro, molto brevemente lo conoscete, è un comandante esper molto molto forte, che dà la possibilità di guadagnare due vite in upkeep, solamente rimanendo in una zona di comando. Quando guadagniamo vite, se è in gioco possiamo pagare uno, se lo facciamo peschiamo e ogni opponent perde un punto vita. e basta. Sia che sia in gioco, sia che sia in command, ci fa guadagnare due vite a turno in upkeep. Una build classica di questo Oloro, sostanzialmente è un esper control, potremmo dire il classico drogo, mazzo comunque che si basa molto sui counter, con una shell molto molto controllosa, ci sono tutti i counter efficienti, c'è anche qualche counter un po' più oneroso, come costo di mana, e poi tutte le removal forti, i peschini più forti, le carte di Davelu, insomma, classico controllone esper, qualche incantesimino che ci supporta veramente molto molto bene, Necropotence e Black Market, primi fra tutti, perché con Oloro sinergizzano estremamente bene, dato che ci fa guadagnare due vite a turno, Necropotence vuol dire che ci pescherà due carte a turno gratis, e in Black Market potremmo attivare almeno la pescata, quindi draw a card you lost to life, il secondo effetto, gratis ogni turno, quindi veramente due carte che sinergizzano in modo molto 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 performante con Oloro. Secondo comandante del mazzo, Shuarikai, che non può mai mancare, e niente, un mazzo che comunque punta a stallare la partita, a entrare in pieno controllo e poi vincere o con un planeswalker, o sterzando di Oloro stesso, ma comunque nel momento in cui accumuliamo un vantaggio così enorme, soprattutto con incantesimi di questo tipo, da stabilizzare il board e mantenere sette carte in mano, diciamo che la partita è abbastanza finita, ma una base abbastanza solita. Poi abbiamo Ogak, abbiamo detto Ogak, mazzo che in questo momento si sta preferendo a Grist, da come potete vedere anche qua. Ogak, adesso non lo trovo più, ce n'erano tre, eccoli qua. Ce ne sono tre, Grist, solamente uno credo. Eccolo qua. Solamente uno. Quindi Oloro si sta preferendo di gran lunga a Grist, scelta che condivido, soprattutto nel metà attuale in cui i raffine di Ada, come abbiamo detto, fanno da padrone, sono i mazzi da battere. Una build molto più aggressiva di un BG, midrage comunque, aggro in questo caso, è preferibile, perché risolvere un 8-8 per questi mazzi non è banale, e se te lo presento di secondo potrebbe chiudere la partita. Alla fine sono 8 danni e sono pure da comandante, si fa in fretta ad arrivare a 21, 21 danni da comandante. Quindi scelta che condivido. Di Ogak non c'è troppissimo da dire, lo conoscete, è un mazzo che si basa molto sul comandante, molto commander centrico, cerca di buttare risorse al cimiterio, nei modi più disparati, con le varie creaturine, e poi avere i mana, avere dei rampini per fare prima Ogak, e allo stesso tempo, quindi accelerare il mana, quindi fare prima le nostre risorse, e allo stesso tempo fare prima anche Ogak, perché potremmo usarli per pagare il convoc di Ogak e castarlo. Quindi una doppia funzione molto molto utile. Poi qualche removal, qualche altra carta che ci permette di fare cimitero, come il one in way, la from the home, eccetera. Altre removal, qualche tech interessante, potrebbe essere il berser, che ci permette di praticamente chiudere la partita con un colpo solo, o quasi, se abbiamo già dato dei bei danni. Comunque dare più XP zero a Ogak, in base alla forza, vuol dire farlo diventare un 16, 16 danni a comandata sono tanti. E poi abbiamo qualche accelerino, Skullclamp, Sylvan Library, Breach From Below, terre varie. Quindi aggro, che si conferma molto molto solido, molto molto forte in questo meta. Poi abbiamo una nuova, una new entry, Rona, comandata interessante, una build, penso, controllo, adesso la guardiamo insieme. Comunque è questo 1-3, che dice, quando lanciamo una magia leggendaria, stappiamo Rona, se la tappiamo, peschiamo la carta e scartiamo la carta, a costo 6, oppure un pyrexiano, la flippiamo. Flippata è una 5-5, travolgere, che dice, quando una fonte fa danno a Rona, il controllo di quella fonte esilia una carta dalla propria mano. Se è una terra, la possiamo mettere nel campo di battaglia sotto il nostro controllo, altrimenti possiamo lanciarla senza pagare il costo di mana. Quindi, carta interessante, che permette un Gran Velu. Probabilmente c'era bisogno di giocare un comandante Dimir, che avesse una build controllosa, e effettivamente questa è una buona carta. Allora, intravedo delle combo, perché vedo qua un Jace, vedo un Painter Servant, quindi build controllosa, che però serve solamente a supportare un piano combo, probabilmente. Sto facendo le supposizioni, perché il mazzo non lo conosco molto bene, però diciamo che se vedo queste carte, il dubbio mi viene. Painter Servant ci sarà sicuramente anche Mola, eccola qua, quindi punta comunque a chiudere di, un mazzo che punta comunque a chiudere di un piano combo, supportato da i migliori counter, le migliori removal del nero, i vari peschini, e carte da velo. Quindi, un mazzo molto molto interessante, che si è confermato essere forte, quindi facciamo i complimenti al ragazzo che l'ha portato, e soprattutto per la lista. Abbiamo Diada, l'abbiamo detto, Diada ormai la conoscete, non parlerei neanche più di questo comandante, reanimator con la possibilità di fare ciccioni enormi dalla mano, il piano è sempre quello, gioca tutti i ciccioni possibili e immaginabili, o comunque quelli più performanti, che bene o male se entrano fanno un patatrack, fanno un bel disastro. Riesce e ha la possibilità di reanimarli, o di giocarli veramente molto in fretta, banalmente un Diada turno 3, con un sasso che qua però non vedo. Ok, questa è una build un po' più particolare, di solito le build che ho visto giocavano i sassi, però questa scelta non è stata fatta da ragazzo in questione. Comunque vabbè, l'idea è sempre la stessa, presentare un ciccione abbastanza in fretta, e poi avere un piano di ricorsione, grazie ai reanimini, molto molto solido, che ci fa scavalcare veramente qualsiasi minaccia. Il mazzo, sapete come la penso, è un mazzo molto molto forte, che sembra essere gestibile quasi solamente da mazzi con il blu. L'alternativa è aggrare veramente in modo molto molto pesante, molto molto veloce, ma non è detto che sia così banale, perché se ci presenta un reanimino fatto in fretta, e ci reanima una bomba di questo calibro qua, come Elshnor, Grislebrand, o Iona, se siamo aggro comunque non è che stiamo messi benissimo, se dall'altra parte ci mettono una bestia del genere. Quindi comunque mazzo molto forte. E poi abbiamo Rafin, quello che penso essere il mazzo più forte in questo momento in Centurion, più di diada e più solido. Rafin ha un piano tempo veramente veramente imbattibile, imbattibile non nel senso che il mazzo, non può essere battuto, imbattibile come piano tempo. Cioè è il miglior mazzo tempo che si possa giocare in questo momento, gioca i migliori tre colori che si possono giocare per un mazzo tempo, perché ha la color pie Esper, lo fa con una solidità estrema. onestamente quando fa delle partenze, turno uno pezzo, che può essere S per Sentine, il judge, quello che volete voi, il bodyguard, la mamma, quello che volete. Turno due altro pezzo, magari che protegge pure, come un counter, il kit, il selfless spirit, e cose di questo tipo. Turno tre Rafin, mi sembra veramente una partenza che è una combo, cioè non se ne esce da quella cosa lì, poi inizia a fare con Niv, sui propri pezzi diventano giganteschi, lui vede mezzo mazzo letteralmente, si mette in mano quello che serve per vincere la partita, e tanti saluti e baci. Mi sembra veramente il mazzo più solido, e più concreto in questo momento, lo dicevamo già nei video passati, si conferma dal risultato che ha fatto a Legion War, ripeto, quattro Rafin in top 16 sono tanti, sono veramente tanti, di cui tre in top 8, quindi di quelle top 16, tre sono poi ancora andati avanti, hanno vinto ancora il game, molto molto, un risultato molto molto buono. Non sto dicendo sia da ban, assolutamente, così come non sto dicendo sia da ban di Ada, tra l'altro, toccare uno di questi due comandanti, vorrebbe dire inevitabilmente toccare anche l'altro, perché se mi banni Rafin, è una supposizione che, ripeto, io non farei, io non bannerai in questo momento, mi devi bannare anche di Ada, perché altrimenti l'altro mazzo schizza alle stelle, schizza alle stelle perché si tengono un po' a bada vicenda, Rafin comunque non sta verso discretamente bene, secondo me contro di Ada, di Ada comunque se la può giocare in qualche modo con Rafin, e essendo i due mazzi più solidi, si bilanciano come diffusione nel meta vicenda, se tu ne togli uno, la possibilità che l'altro salga in modo esponenziale è altissima, è elevatissima. Quindi, risultato finale, abbiamo visto la top, breve discorso sul meta, meta bilanciato con tanti mazzi, però con due mazzi che sembrano essere più solidi degli altri, cioè è evidente che di Ada e Rafin sembrano avere una marcia in più. Non sto parlando di percentuali di diffusione, perché ripeto, come numero di mazzi proprio fisicamente nei tornei, sono ancora una percentuale buona, che va bene, come conversione in top, e come solidità stessa del mazzo, puzzano un po'. Non credo che in questo momento venga fatta nessuna ban, e forse anch'io in questo preciso momento non la farei, però sicuramente un occhio di riguardo a questi due mazzi va dato, soprattutto in un'ottica comunque abbastanza restrittiva, che è quella che sta adottando adesso il comitato. Abbastanza restrittiva intendo che ci sono diversi comandanti bannati, si potrebbe scegliere una tipologia di banlist più libertina, in cui sbannare addirittura delle cose, che forse è quella che adotterei io, ma non credo che sia, non posso dire che sia la soluzione giusta. A quel punto allora se sbanni più cose, si potrebbe anche valutare questa opzione, il comitato potrebbe decidere di fare degli sbanna, per esempio nel prossimo periodo, se sbanni delle cose è possibile che questi due mazzi rientrino. Comunque inserisci dei nuovi tire, magari nel formato, inserisci magari se lo fai nel modo corretto e se c'è la possibilità di farlo nel modo corretto, dei mazzi che stanno bene contro i due tire 1 del momento e quindi automaticamente ribilanci un po' il meta e fai rientrare un po' il tasso di conversione. Ripeto, non è detto che sia la scelta giusta, così come non è detto sia la scelta giusta il ban, così come non è detto sia la scelta giusta lasciare tutto così com'è. Quindi è una decisione molto difficile, le tre strade sono queste, non fare niente, bannare qualcosa, sbannare qualcosa, sono sempre quelle le strade. Non vorrei essere nei panni del comitato in questo momento, perché ripeto è una scelta molto molto difficile, però sicuramente è una scelta che gli deve portare via del tempo e alla quale devono pensarci e dedicare del tempo. Ecco, questo sicuramente sì, perché ripeto c'è questo sentore che siano i due mazzi più solidi, più dominanti, non imbattibili, non imbattibili assolutamente, ma i due mazzi tire, questo sì. Quindi in conclusione il meta complessivo sembra essere ancora abbastanza vario, se non per questi due dettagli che ho detto adesso, quindi comunque un formato che all'apparenza, e penso anche a livello pratico, risulta essere ancora sano. Spero che vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere cosa ne pensate dai commenti, magari più avanti uscirà qualche cos'altro riferito a nuovi tornei, e ovviamente se ci dovesse essere una banlist o qualcosa del genere, rimanete sul canale, perché noi saremo sicuramente fra i primi, e cercheremo di fare tutto per essere i primi, a fare un contenuto a riguardo. Quindi ci vediamo la prossima volta, ciao a tutti e vi auguro una buona giornata.